Sono Giuseppe Lia, lavoro con l'amico mio Marco Cilfone. Noi eravamo messi in Piaga di Balti, da quando è arrivato il nuovo comandante della Polizia Municipale ha buttato l'occhio su di noi e ci ha fatto andare da Piaga di Balti dicendo che era centro storico, ha fatto una ordinanza mirata proprio contro di me, portandoci in Portapalermo che era periferia. Abbiamo lavorato 6-7 mesi da Portapalermo messi in un parcheggio proprio privato dentro che non davamo fastidio a nessuno. Allora di Punto in Bianco i due giorni fanno sordinanza del cavolo. Hanno preso quest'area come mercato ittico. Ora dico io, ieri non abbiamo lavorato, oggi non sono al grado due cassette di pesce perché non sapendo il posto com'è e ovviamente ci immaginavamo questo caos. Già è da stamattina che stiamo puntati e mirati dai genitori che vengono a lasciare i bimbi a scuola. Ora siccome la pazienza ha un limite, e lo dico veramente, abbiamo figli, abbiamo nipote, abbiamo famiglie a carico, dico non vorrei che a qualcuno si facesse del male stamattina perché già la pazienza è finita. Quindi amministratori fate quello che dovete fare urgentemente, possibilmente di annullare questa ordinanza del cavolo e metterci ognuno al nostro posto dove non diamo fastidio a nessuno. Quindi, ripeto, non vorrei che la situazione dei generi in peggio perché già siamo noi al limite. Quindi non possiamo sopportare oltre il danno pure questo. Buona giornata.